Antonino, buongiorno, ti ho portato il mare? Un volto familiare si aggira facendato in una cucina allestita doc per ospitare un brand, un testimonial d'eccezione e una troupe. E l'attore foggiano Michele De Virgilio, co-protagonista della nuova campagna pubblicitaria di un noto pastificio meridionale. Sud chiama Sud e così il prestigioso marchio di pasta voluto come super testimonial napoletano doc. Il giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo. Nello spot, in onda dallo scorso 25 giugno, sui principali canali tv su web, lo chef napoletano Due Stelle Michelin si avvale della preziosa collaborazione di Michè, il fornitore di scampi. Eccolo Big Antonino nella cucina di un ristorante alle prese con gli scanalati, gli spaghetti che grazie alla loro particolare scanalatura raccolgono meglio il sugo. L'occasione per cucinarli è l'arrivo degli scampi freschissimi appena consegnati da De Virgilio. A te ti piace il mare, eh? E vieni con me, vieni. Con due spaghetti, quelli giusti però, Michè, ti porto a Napoli. Per l'attore foggiano, protagonista di fiction di successo, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo, una pallottola nel cuore, squadra antimafia, non si tratta del primo spot. Nel 2011 De Virgilio è stato protagonista della campagna di sensibilizzazione e della donazione del sangue dell'Avis comunale di Foggia. Magari bastasse il ketchup, tu la sai.